Oh, ciao, Varese non dà consigli, Parma non dà consigli, ci siamo roppi il cazzo, andatevene a fanculo. Ciao, 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 ho capito che è meglio se tengo la mia bocca chiusa, penso ai miei affari in soporcile dove la gente non chiede scusa. Questa è l'era del tutto e dovuto, doveppure il ragazzino inesperto è un maleducato e cocciuto. Non è che arrivo dal bene o dal male, solo che da pischello mi hanno insegnato a vado ad ascoltare. Tu non incazzarti, tua madre avrà avuto ben altro da fare piuttosto che stare lì ad educarti. Io non do consigli, francamente non ho né tempo né voglia, cazzi tuoi e dei tuoi figli. E quando ho provato a darli sono passato per superbo, ora ti guardo e ridere la voce del mio verbo. Sti cazzi, non c'entra niente con questi ragazzi, è la legge causa-effetto che si piglia i suoi spazi. E adesso che ci penso un consiglio ce l'ho, levati dal cazzo e non chiamarmi bro. Se ti dicono fallo, non farlo, voglio vivere in toto con il mio sbaglio. E tu consigli, ma chi convinci qua? Homo homini al lufus. Se ti dicono fallo, non farlo, voglio vivere in toto con il mio sbaglio. E tu consigli, ma chi convinci qua? Homo homini al lufus. Avrei da darti i brani su cui ispirarti e passi su cui fermarti a pensare al rapporto con gli altri. Potrei proporti problemi e confronti con uomini propri, infatti si proni per spingere i sogni. Più ti potrei dare dritte con cui campare, regole non scritte per porre fine alle pare. Anche indicazioni, indici di nomi, lunghi a segnalare la strada, le soluzioni. Se ti dicono fallo, non farlo, voglio vivere in toto con il mio sbaglio. E tu consigli, ma chi convinci qua? Homo homini al lufus. Se ti dicono fallo, non farlo, voglio vivere in toto con il mio sbaglio. E tu consigli, ma chi convinci qua? Homo homini al lufus. Ho circa una dozzina di consigli da darti, esci di casa e trova il modo di adattarti agli altri. Affacciati al mondo un secondo, tocca con mano lo sfondo e scoprilo da solo come gira il mondo attorno. Sei talento, non sprecarlo, anche se ti danno il pazzo, ho capito. Solo chi ha l'arte nel sangue può farlo. Vi abbraccia e finti kiss, troppe troie e finte miss. Qui nessuna differenza fra il bacio di Giulio e di Klimt. Non è un film di Klimt, qui tradire incendia come Sean Penn. In Mystic River insegna, fatti i cazzi tuoi e non quelli degli altri. Per campare cent'anni, senza scazzi né danni per gli altri. Affronta muso duro, lo stronzo che ti vuole al muro. Questi i miei consigli, per non prendere in culo il futuro. Oppure, scegli di non ascoltar nessuno. E mangiando tanta merda che si impara, è poco ma sicuro. Best 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 Grazie a tutti.